Tutti il 26 giugno del 2004 la federazione italiana, la federazione internazionale calcistica, la FIFA, squalificò Luis Alberto Suarez per 9 partite e 4 mesi a seguito del morsa avvenuto ai danni di Giorgio Chiellini nella partita Italia-Uruguay, quella celebre partita dove Suarez morse il difensore italiano. La FIFA ha deciso di pulirlo ovviamente con una squalifica di questo tipo per il gesto che era un gesto scorretto o comunque era un gesto che non andava fatto soprattutto in un campo da calcio, soprattutto in una partita in mondo visione dove sostanzialmente il giocatore con lui che sta in campo in quel momento è una sorta di mito e dà l'esempio alla società e alle persone che vedono la partita.